Buongiorno, buongiorno, oggi è lunedì 17 luglio, rassegna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio alto a tesino, una notizia delle ultime ore, incidente stradale ieri sera intorno alle 19.30 nella zona di Luzon, un motociclista è uscito di strada per lui, ferite di grave entità sul posto del medico d'urgenza, i carabinieri per i rilievi di legge. In regia abbiamo questa mattina Massimo Moro, col suo aiuto andiamo a vedere qual è la situazione alle 6.30 in Valle Aurina, questo è il centro abitato di San Giacomo, vedete all'orizzonte il cielo completamente libero dalle nuvole. La grafica grazie alla collaborazione con gli esperti meteo per capire cosa ci dobbiamo aspettare soprattutto in tema di valori massimi, 31 gradi a Bolzano, 30 a Merano, 29 gradi a Bressanone, 28 a Silandro, 25 a Brunico, 25 gradi anche a Vipiteno. Andiamo a vedere allora quali sono le aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo questa mattina in edicola. L'Alto Adige vola per 70 metri e si salva, tutto questo è accaduto a montagna, l'uomo era sceso dall'auto per fare i bisogni, una storia che ha dell'incredibile, è volato come detto per 70 metri a fermarlo alcune reti paramassi, è rimasto in questa posizione, in questo luogo per 10-12 ore prima che un motociclista si accorgesse della presenza dell'automobile di quest'uomo ed esse così l'allarme. Operazioni concluse nel migliore dei modi per il disinnesco della bomba nella zona di Campo di Trensa, evacuate 600 persone e 4 ore di lavoro complessive. La cronaca, la cronaca dello sport, Federer è il più grande di sempre, l'inserto del lunedì per gli avvenimenti del fine settimana, il tennis a livello internazionale per quanto riguarda gli sport a livello locale, calcio, Lega Pro, Rocco Costantino, nuovo attaccante dell'Alto Adige, Ragnoli e Nisi, campioni italiani in Val di Sole per quanto riguarda la mountain bike marathon. La cronaca linguatresca a cura del quotidiano Dolomiten, il grande caldo di queste settimane, la preoccupazione da parte degli agricoltori e non solo i nuovi ospiti, tra virgolette, dei boschi e dei prati della provincia di Bolzano. Sappiamo i matrimoni, i matrimoni, il numero di matrimoni in calo anche in Alto Adige ma il periodo estivo si conferma comunque il migliore per compiere questo importante passo. A livello nazionale il Corriere della Sera, Ius Soli, lo stop del Premier Gentiloni sarà votato dopo l'estate. L'economia, racchette d'oro, i 10 più ricchi, 4 sono donne, notizie a quanto mai d'attualità dopo il successo di ieri di Federer a Wimbledon. Il Sole 24 ore, casa, rimborsi e scontrini, le insidie del modello, 7.30, attenzione a conservare su carta o su file tutti i documenti. Come sempre in chiusura vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano, il 18 di luglio birrissima nel parco di Val d'Aora, il 20 luglio Miss Sutirol 2018 le selezioni in piazza Terme a Merano, il 21 di luglio due appuntamenti Gold Like Beer a Merano 2000, il secondo Sutirol Highland Games a San Lorenzo. È tutto, come sempre io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.